La Regione Sardegna ha dato il via libera ai Comuni per l'attivazione, con decorrenza dal 1 luglio prossimo, dei piani personalizzati per il semestre luglio-dicembre 2020 previsti dalla legge 162.1998 in materia di aiuti finanziari per la non autosufficienza. Gli interventi riguardano sia i nuovi piani che i rinnovi e comprendono sia i programmi a gestione diretta in cui il Comune eroga esso stesso il servizio tramite le dite accreditate, sia i programmi a gestione indiretta, quelli cioè in cui il beneficiario o facente nelle veci stipula il contratto con gli operatori del servizio conformemente all'importo assegnato per ogni singolo caso. Per il Comune di Sassari sono reperibili tutte le informazioni e la modulistica sul sito www.comune.sassari.it. A seguito della pandemia è necessario che i contatti con gli uffici di riferimento si svolgano per via telematica tramite e-mail, PEC e per telefono. Eventuali contatti fisici dovranno essere concordati. I beneficiari dei piani a gestione diretta saranno contattati dai servizi territoriali, mentre quelli dei piani a gestione indiretta possono procedere nell'iter già da ora.